A Campobasso l'ultimo saluto al giovane Asmir Battista, il 21enne deceduto nel tragico incidente sulla statale 16 all'alba di martedì. Tantissimi giovani hanno reso omaggio nella chiesa mater ecclesi ad un ragazzo apprezzato e benvoluto da tutti a Ferrazzano, folla commossa per Marco Di Palma. Liste entro ferragosto, lo ha assicurato il leader del PD Enrico Letta. Ultimi giorni per limare le rose dei nomi, in Molise correranno Caterina Cerroni per la Camera e Giuseppe Cecere al Senato. Mentre nel centro-destra aumenta il rischio di candidature cedute ai colonnelli di Forza Italia. Attaccato duramente dai giovani medici per non aver stanziato i fondi per i contratti aggiuntivi in favore degli specializzanti, il governatore toma replica il dialogo c'è con tutti e sulle borse di studio stiamo valutando. Parchi acquatici di tutta Italia nel mirino dei carabinieri del NAS, in Molise sei gestori segnalati per carenze igienico-sanitarie. Con certi eventi gastronomia torna il settembre esernino, evento clou il 30 agosto in piazza Andrea di Sernia con James Senese. Il Campobasso parte per il ritiro a mattedì 16 agosto, il primo allenamento della nuova stagione a Benevento, poi dal 20 a Rivisondoli. Sullo sfondo il verdetto del Consiglio di Stato atteso per il 25 agosto. Ben trovati in nuovo appuntamento con l'informazione di Teleregione Tante Notizie, parleremo di sanità, di sociale ma in apertura c'è l'ultimo commosso saluto che le comunità di Campobasso e di Mirabello Sannitico hanno voluto tributare con un omaggio ad Asmir Battista, il ragazzo di soli 21 anni che è rimasto vittima della tragedia della strada avvenuta all'alba di martedì sulla Adriatica. La statale 16 in territorio di Pietacciato, centinaia di ragazzi presenti oggi dentro e fuori la chiesa Mater Ecclesie del capoluogo. La chiesa Mater Ecclesie di Campobasso non è riuscita a contenere le centinaia di persone che questa mattina hanno voluto essere presenti per l'ultimo saluto al giovane Asmir Battista, il 21enne deceduto martedì scorso a seguito di un tragico incidente sulla statale 16 Adriatica. Tante le persone sul sagrato della parrocchia che il giovane frequentava come scout che hanno ascoltato commosse le parole di padre Giampaolo Boffelli che ha ufficiato i funerali di Asmir. Preghiamo per te Asmir, però ti chiediamo aiuto, ti chiediamo di farci luce in questo momento così buio che tu possa vivere nella pace e nella beatitudine le parole del parroco. Per Asmir, tanti, tantissimi giovani, gli amici di sempre, gli amici del suo paese, i compagni di scuola e gli amici scout che hanno ricordato il suo carattere forte, la sua testardaggine, la sua instancabile voglia di fare e la sua generosità verso gli altri. Era volentieroso, buono, pio e testardo come pochi. Se voleva fare qualcosa lo faceva, senza un senso, ma portava a termine tutto quello che voleva fare e lo faceva sempre per gli altri. Eri sempre pronto Asmir e siamo convinti che tu lo sia anche lì su. Brilla col tuo sorriso e veglia da lì su toccanti le parole del capo scout. L'intera comunità si è stretta attorno ai genitori, al padre Giuseppe e alla mamma Anna Maria straziati dal dolore per la perdita del loro unico figlio. Fiori e palloncini bianchi per Asmir all'uscita della chiesa tra gli applausi e tanta commozione tra le note della canzone sta passando novembre di Eros Ramazzotti. Poi la toccante lettera scritta da un'amica che ha ricordato i bei momenti passati insieme, i tanti progetti, l'ambizione di voler diventare un architetto lui e un avvocato lei ed aprire insieme uno studio che il giovane aveva già progettato. Un amico come te non si dimentica, un amico è per sempre. Accanto alla bara anche il casco della moto accesa dagli amici il cui rombo, unitamente agli applausi, ha accompagnato l'uscita della Salma. Ieri pomeriggio folla commossa a Ferrazzano per l'ultimo saluto a Marco Di Palma, anche il 48enne è rimasto vittima del medesimo incidente purtroppo. Un grande lavoratore, una persona stimata e soprattutto un marito e padre devoto alla famiglia. Marco Di Palma era tutto questo, un uomo che conduceva la sua vita senza risparmiarsi, affrontando sacrifici come quello di spostarsi ogni giorno dal Molise a San Salvo, lì dove lavorava come corriere, ma anche vivendo le gioie quotidiane. Improvvisamente Marco è stato strappato all'amore della moglie, dei figli, dei parenti, degli amici. Stava andando proprio al lavoro e sembrava un giorno come tanti quel martedì 9 agosto. Sulla Statale 16, in territorio di Petacciato, però è accaduto qualcosa e la sua auto è impattato con l'utilitaria alla cui guida c'era un 21enne, anche lui purtroppo non ce l'ha fatta. Inconsolabile la moglie, attorniata da una comunità intera, quella di Ferrazzano, non tutti sono riusciti a trovare posto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, ma tutti, anche gli amici e i colleghi del Basso Molise erano lì, all'esterno della chiesa per dire addio a Marco Di Palma. Ora sarai un angelo per la tua sposa e per i tuoi bimbi, una delle frasi che risuonava al termine della cerimonia ufficiata da Don Nicola tra le lacrime e gli applausi che hanno accompagnato l'uscita del feretro. Ovunque sarai, nel giorno del lutto cittadino disposto dal sindaco Antonio Cerio a Ferrazzano, il 48enne è andato via così, sulle strazianti note della canzone di Rama e tra l'affetto dei tanti che lo stimavano. Grazie. Grazie. Elezioni politiche del 25 settembre, mancano dieci giorni per depositare le liste in corte d'appello a Roma, precisamente il 22 agosto. Andranno consegnati gli elenchi e quindi gli schieramenti in campo stanno limando le rose dei candidati. Per il PD sembra certo che correranno in Molise la giovane agnonese Caterina Cerroni e il medico in pensione del Cardarelli Cecere, mentre nel centro-destra aumenta il rischio di candidature cedute in Molise ai colonnelli, quindi ai big di Forza Italia in particolare. Sentiamo Rita Iacobucci. Caterina Cerroni correrà per la Camera, 31 anni, agnonese, segretaria nazionale dei Giovani Democratici e una delle donne del 7 Bello Rosa, su cui Enrico Letta punta per provare a ribaltare i pronostici. Tra le altre ci sono Susanna Camusso e Elie Schlein. Giuseppe Cecere invece rappresenterà il fronte nell'uninominale per il Senato, primario di chirurgia del Cardarelli da poco in pensione, responsabile del Dipartimento Salute del PD regionale, ha il gradimento dei movimenti civici che nelle ultime ore hanno ufficializzato la scelta del campo progressista ed è in grado di parlare al mondo dei comitati nati a difesa della sanità pubblica anche per la forte critica espressa in questi due anni alla gestione della pandemia da parte dell'ASREM e della Regione. Al netto di sorprese dell'ultimo momento, questo è il perno dell'offerta dell'alleanza di centro-sinistra per le elezioni del 25 settembre. In lizza per la corsa al proporzionale ci sono poi il segretario Demma Vittorino Facciolla e il suo collega di articolo 1 Francesco Totaro, l'ex assessore regionale Carlo Veneziale, l'assessore al comune di Sernia Maria Teresa d'Achille, la consigliera di Campobasso Bibiana Chierchia. Quadro molto nebuloso invece in casa del centro-destra. Aumenta col passare delle ore il rischio di veder catapultati molise colonnelli di Forza Italia o anche dei centristi a caccia di collegi sicuri. I due maggioritari della Regione sono considerati blindati dalle proiezioni dell'Istituto Cattaneo. Per Anna Elsa Tartaglione, coordinatrice degli Azzurri, si profilerebbe così una nuova corsa in un listino proporzionale fuori regione. Filoteo Di Sandro, in base allo scambio interno avvenuto già da qualche giorno, sarebbe candidato non più al Senato, ma alla Camera sull'Uninominale. Proprio Fratelli d'Italia, però, si è assunto l'onere di concedere spazio, cioè alcuni seggi maggioritari in cui si può essere eletti, ai moderati che sul proporzionale si presenteranno invece tutti, dall'Udc a Lupi, con un unico simbolo. Il Molise, come già accaduto in passato, potrebbe essere agevolmente sacrificato. E veniamo all'emergenza coronavirus con i dati che ha diramato l'ASREM nell'ultimo bollettino, quello di ieri sera. Fortunatamente è stata una giornata senza decessi sul fronte Covid. C'è stato invece un nuovo ricovero, un paziente di gamba tesa è stato ricoverato direttamente in terapia intensiva. Quindi i degenti complessivamente al Cardarelli ora sono 32, 29 malattie infettive e 3 in terapia intensiva. I nuovi casi invece 201 relativamente ai 628 tamponi processati, 14 le persone positive al tampone molecolare, 187 al test antigenico, con l'indice di contagiosità che è al 32%. 263 i guariti, quindi gli attualmente positivi in tutto il Molise scendono a 5.840. Nessun danno fortunatamente a Baranello in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata ieri sera. La gran parte dei cittadini si trovava in strada per una festa di paese. Il sisma di ieri ha fatto seguito alle due scosse che si erano susseguite a Termoli e Campomarino la notte precedente con epicentro in mare, ma avvertite nitidamente dalla popolazione del litorale. C'era una festa a quell'ora, hanno fatto sapere alcuni residenti, la maggior parte della gente non si è resa nemmeno conto di questa scossa che è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sempre per la cronaca, parchi acquatici di tutta Italia finiscono nel mirino dei carabinieri del NAS. I controlli sono stati svolti tra luglio e agosto. Circa il 30% delle strutture ispezionate è risultata irregolare. Ben 108 sono state le sanzioni penali e amministrative combinate dai carabinieri per oltre 40.000 euro di contravvenzioni. Ma soprattutto 10 di queste strutture sono state chiuse perché abusive o contaminate da batteri fecali presenti nell'acqua. In azione anche il NAS di Campobasso che ha effettuato i controlli su tutto il territorio molisano. Qui sono 12 le strutture controllate. Il titolare di un villaggio turistico è stato segnalato alla magistratura per violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e 6 gestori alle autorità sanitarie per la non corretta attuazione dell'enorme autocontrollo sulla salubrità degli alimenti e per le carenze igienico-strutturali dei loro parchi acquatici, delle loro piscine. E dopo il duro attacco ricevuto dai giovani medici in merito al mancato stanziamento dei fondi per i contratti aggiuntivi per le borse di studio il governatore e commissario della sanità Toma replica il dialogo c'è con tutti e sulle borse valuteremo. Sentiamo. Manca dialogo e mancano i contratti aggiuntivi? Stiamo provvedendo. Questa è la replica del governatore del Molise e commissario alla sanità Donato Toma rispetto all'accusa sperrata nelle scorse ore dai giovani medici per voce di Federico Di Renzo presidente della commissione che riunisce proprio i giovani dottori dell'ordine di Campobasso. Solo il Molise e un'altra regione italiana non hanno provveduto a istituire le borse di studio per gli specializzandi relativamente all'annualità 2021-2022 un'anomalia evidenziata dalla nota dell'esponente dell'ordine dei medici e che fa ancora più rumore in un momento in cui la carenza di personale negli ospedali è tornata prepotentemente in cima alle cronache locali a causa del periodo di ferie dei dirigenti medici dell'aumento dell'utenza e del rischio paralisi di molti reparti. Temi che si legano inevitabilmente che sono stati evidenziati da Di Renzo nel puntare il dito contro la regione responsabile di non invogliare i medici a restare secondo l'esponente dell'ordine. Dopo la dura lettera in cui viene tacciato di non essere disponibile al dialogo Toma chiarisce e smentisce. Il dialogo con i medici c'è sempre stato chiaramente dobbiamo dialogare non solo con i medici ma anche con i manager aziendali dobbiamo dialogare con gli infermieri dobbiamo dialogare con tutti i comparto sanità dobbiamo dialogare con i cittadini per cui siamo molto impegnati. Ho letto qualcosa perché riguardava le borse per i tirocini in realtà le borse per i tirocini sono state stabilite in conferenza Stato-Regione la Regione può aggiungere ulteriori borse in relazione alle disponibilità finanziarie che riesce a reperire stiamo provvedendo anche a questo. Torniamo in studio per parlare di un doppio evento a sfondo sociale che parla di donne che parla di moda che si terrà nei prossimi giorni nel weekend tra Civita Campomarano e Limosano e ne parliamo con l'ideatrice che è Daniela Del Gobbo ben trovata Daniela Salve ciao Valentina grazie per questo invito grazie a te tu sei una giovane professionista molisana sei una stilista che si è formata a Milano dove ti sei formata racconta allora io in realtà mi sono formata a Pescara quindi ho fatto l'università europea del design quindi moda dopo di cui ho iniziato a lavorare nelle marche quindi mi sono trasferita nelle marche ho collaborato con tanti brand quindi ne cito qualcuno Pinco Blue Marine Filiplane ho lavorato anche con una linea di breatore Billionaire e mi sono specializzata sul denim quindi insomma questo è quello che ho fatto nella vita ad un certo punto ho scelto di tornare in Molise perché? perché comunque noi avevamo un po' con questo progetto insieme anche a Samantha Scherzi che è la direttrice dell'istituto professione moda quindi cosa vogliamo fare? provare a farvi nascere il tessile molisano quindi provare a mettere su una scuola di moda qui in Molise e noi ci stiamo credendo insieme anche a Ciro Di Dato e stiamo cercando di costruire questo progetto per noi bellissimo quindi questa scuola di moda che realmente prepari lo studente introducendo un po' un dialogo fra lavoro e studio perché questo è un po' il nostro obiettivo perché parlo dell'IPM? perché sarà partner delle due serate appunto in tre cd donna di cui parlavi tu prima sono delle iniziative prima anticipavo che c'è una causa sociale che fa da sfondo e anche da motore a questa doppia iniziativa che hai attuato grazie all'associazione Libera Luna grazie a un filo che unisce quindi spiegaci di cosa si tratta allora io a grandi linee vi dico che questo evento questi due eventi che saranno proprio domani sera a Civita Campomarano e il 13 a Limosano sono realmente nati da una serie di coincidenze pazzesche che hanno messo insieme io le chiamo le donne del fare tu citavi prima Libera Luna quindi io ti dico in queste serate con noi oltre l'IPM ci sarà Libera Luna ci sarà la presidente di Libera Luna quindi che anche Cavaliere della Repubblica Maria Grazia La Selva un'altra donna del fare ci saranno anche le borse di moda alterdonna che è un progetto che è stato proprio ideato dalla presidente dell'associazione mi vorrei soffermare un attimo Daniela su questo perché ricordiamo che Libera Luna è un'associazione che si occupa da anni di assistere le donne vittime di violenza gestisce un centro antiviolenza e queste borse che saranno presenti nelle due serate sono state realizzate proprio dalle donne che assiste l'associazione esatto infatti noi abbiamo cercato o meglio ci stiamo credendo e davvero ci crediamo tutte insieme qual è l'obiettivo è quello di dare alla moda non solo un valore estetico ma soprattutto un valore sociale ecco perché abbiamo voluto dentro Libera Luna e Moda Alterdonna poi ci sarà anche Viva Vittoria che è un altro progetto ulteriore di Libera Luna oltre questo c'è anche un filo che unisce quindi siamo diciamo reduci dal successo della mostra Frammenti a Trivento l'abbiamo appena inaugurata ricordiamo un filo che unisce l'associazione composta da donne di Trivento che ha realizzato salita alla ribalta cavalca il trend dell'uncinetto grazie a questo albero meraviglioso realizzato l'uncinetto ma poi per anche tanti altri lavori esatto ma infatti diciamo che già il mondo moda di per sé è in una fase in cui il trend dell'uncinetto è fortissimo quindi anche Magno ha fatto insomma delle pubblicità su questo e un filo che unisce sarà presente in queste due serate ci sarà Michele Anziano che è la presidente io ci tengo a sottolineare che noi abbiamo una direttrice artistica che è di Roma quindi con noi ha creduto nel Molise quindi nella come dire riscoprire un po' il territorio credendo di ripartire da due piccoli borghi quindi il castello di Civita Campomarano e Limosano quindi ecco noi tante energie di donne le donne del fare come le hai definite tu poi mi è piaciuto anche il fatto che l'obiettivo è un po' rilanciare il tessile come nelle Marche che è un fiorell'occhiello dove tu hai lavorato anche in Molise c'è una tradizione tessile quindi tanti elementi che si uniscono allora diamo appuntamento a tutti per salutarti Daniela assolutamente ecco io ci tengo solo a ringraziare anche tutte le stiliste perché chiaramente si parlerà anche di moda quindi di bellezza di eleganza avremo le modelle stupende avremo cinque stiliste per ogni serata che sfideranno con le proprie collezioni anche delle artiste quindi avremo anche dei momenti di intrattenimento di danza di canto di esibizioni uno show a tutto tondo uno show a 360 gradi quindi io vi aspetto a l'obiettivo di sensibilizzare le persone contro la violenza sulle donne questo è importante esatto bene allora l'appuntamento ribadiamo allora l'appuntamento è domani a Civita Campomarano domani pomeriggio alle 18 e poi saremo a Limusano il 13 il 13 agosto alle 21 quindi vi aspettiamo numerosi e ti ringrazio ti ringrazio e complimenti a Daniela Del Gobbo per quello che fa e per le tante iniziative che continuerai a mettere in campo grazie grazie a te noi continuiamo con il nostro telegiornale parlando di scuola perché sono oltre 10 milioni e 800 mila euro i fondi destinati alle scuole del Molise per trasformare le classi in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo sono state pubblicate infatti sul sito del PNRR istruzione le risorse disponibili per ciascuna scuola della regione che sono state assegnate nell'ambito del piano scuola 4.0 un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentessi scusate studenti più coinvolti vediamo nello specifico perché per il Molise lo stanziamento prevede 7 milioni 114 mila euro per next generation classrooms e 3 milioni 710 mila per next generation labs e quindi nuovi spazi innovativi per i ragazzi si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostra scuola detto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi il più grande di questo tipo mai realizzato con risorse e tempi certi William Ciarallo sindaco di Sant'Angelo Limosano è stato eletto presidente dell'Unione dei Comuni del Medio Sannio 20 i consiglieri presenti all'appuntamento tra sindaci amministratori di maggioranza e minoranza che all'unanimità hanno manifestato fiducia al primo cittadino di Sant'Angelo recentemente entrato a far parte della famiglia di noi di centro il partito di Clemente Mastella sono molto felice ha detto per il risultato raggiunto ha commentato il segretario regionale del partito Alessandro Amoroso persona che stimo William Ciarallo e che sono certo saprà affrontare questo nuovo percorso con l'impegno e la serietà necessari ci spostiamo ora di Sernia dove sta per partire un cartellone ricco di eventi con il concerto di James Senese ma non solo presentazione di libri spettacoli serate dedicate al teatro parliamo naturalmente del settembre Isernino sentiamo Pierluigi Boraggine cartellone ricco quello del settembre Isernino appuntamento tradizionale dell'estate pentra il primo dell'amministrazione Castrataro concerti teatro gastronomia lo start il 17 agosto con la compagnia Cast e lo spettacolo Killer Anu Killer in piazzetta San Felice poi a seguire e quasi per un mese tantissimi altri eventi sempre la compagnia Cast sarà in scena all'auditorium con un nuovo spettacolo nato dal testo di Maurizio Veneziale 1943 e ancora un omaggio a Gian Battista Faralli della compagnia Ariete il 4 settembre l'inizio del workshop di musica jazz a cura del tetracordo sabato 3 settembre il festival della cultura gastronomica Sapere Sapori giunto alla quinta edizione mentre mercoledì 7 raccolti e racconti uno show cooking con presentazione musicale convegni presentazioni di libri mostre d'arte fotografiche il torneo interregionale di scacchi una rievocazione storica il jazz e la canzone classica napoletana infine la grande musica gli incanto napoletano Emanuele Colandrea Giovanni Truppi e l'evento più atteso James Senese in concerto in piazza Andrea di Sernia mercoledì 30 agosto Su questo cartellone abbiamo lavorato tutti tutta l'amministrazione tutti i consiglieri ognuno ha proposto quello che voleva o quello che diciamo immaginava per il settembre Sernino ci ha lavorato tanto pure la Prologo alla fine dopo un paio di mesi di lavoro duro è uscito fuori un bel cartellone il cartellone prevede la concentrazione degli eventi più importanti soprattutto fino alla fine di agosto anche per motivi meteorologici per fare in modo anche che ci sia più gente a partecipare e si spazia da la nuova astronomia alla presentazione di libri ai concerti al teatro in più punti della città anche nelle contrade e nel quartiere di San Lazzaro si vogliono fare delle cose fatte bene o quantomeno cercando di raggiungere dei risultati importanti bisogna essere ambiziosi e questo calendario rispecchia questo tipo di intendimenti è il momento del meteo scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore il meteo è presentato da London Street abbigliamento uomo-donna a Isernia previsioni del tempo di venerdì 12 agosto la perturbazione sui Balcani si sposta verso l'Italia portando instabilità anche sul Molise con annuvolamenti in graduale aumento e piovaschi o temporali intensi sull'Appennino temperature massime fino a 30 32 gradi venti deboli mare poco mosso campo basso minima 17 massima 27 gradi Isernia 15 28 Termoli 21 28 Venafro 18 31 gradi Il meteo è stato presentato da London Street abiti da cerimonia e per ogni occasione bene ora una pausa ma di qualche secondo perché tra pochissimo ci rivediamo con tutte le novità sul campo basso per la pagina sportiva e tante altre notizie restate con noi per la pagina sportiva e tante altre notizie per la pagina sportiva e tante altre notizie per la pagina sportiva sempre in attesa della decisione del Consiglio di Stato che arriverà il 25 agosto prossimo però sono state stabilite le date del ritiro si parte il 16 agosto ci sarà il primo allenamento proprio il giorno dopo Ferragosto a Benevento dal 20 invece la squadra si sposterà a Rivisondoli però si attende naturalmente alla decisione dei giudici sentiamo tutte le novità lo avevamo annunciato diversi giorni fa ora è ufficiale martedì inizia il pre-ritiro del campo basso la squadra si ritroverà a Benevento 18 i calciatori a disposizione di mister Fabio Prosperi in attesa della decisione del Consiglio di Stato si legge sulla pagina Facebook della società la squadra si radunerà il 16 agosto presso l'Una Hotel il Molino di Benevento per iniziare gli allenamenti sul campo sportivo Ariella di Paduli da sabato 20 invece il gruppo si sposterà a Rivisondoli presso il Grand Hotel Europa e si allenerà sul campo comunale agli ordini di Prosperi 13 calciatori ancora sotto contratto e vincolati al club i portieri Zamarion e Rai Cichini i difensori Dalmazzi Menna Vanzan Martino e Pace i centrocampisti Candellori e Persia il Neo Acquisto Virgilio gli attaccanti Liguori Mercai e De Biase in ritiro anche qualche giovane di belle speranze del settore giovanile e alcuni elementi a caccia di un contratto sullo sfondo la decisione del Consiglio di Stato in composizione collegiale in programma il 25 agosto e dunque altri 14 giorni di agonia e speranza Definiti i calendari per eccellenza e promozione il 27 e il 28 agosto appuntamento con la Coppa Italia i tornei invece prenderanno il via il 10 e l'11 settembre sentiamo Vincenzo Ciccone La conferma delle 16 squadre in elenco a primo luglio in eccellenza un solo forfè in promozione invece quello della Volturnia auto retrocessa si in prima categoria per la prima volta dopo diversi anni il panorama calcistico regionale molisano ha vissuto per le sue categorie di vertice un quadro particolarmente chiaro nel massimo torneo regionale saranno presenti Aurora Alto Casertano Aurora Ururi Boiano Virtus Gioiese Campo Marino Castellisangro Ceppi Serena San Leuce Olimpia Agnonese Pietramonte Corvino Polisportiva Campo di Pietra Leal Guglionesi Sesto Campano Turris Campobasso 1919 e Venafro nella cadetteria invece il Montenegro ha preso il posto della Volturnia venendo ripescato e finendo in un lotto comprendente anche Esernia Faterna Altiglia Samnion Atletico San Pietro in Valle Balanello Bois Vairano Quiternina Don Caisagnone Rocca Ravindola Polis Petacciato Polisportiva Juvenes Polisportiva Fortore Ripa Limosani Spinete Termoli 2016 Trivento Già definiti in questo senso anche i gironi di prima fase della Coppa Italia che prenderà il via nel weekend del 27 e 28 agosto con ulteriore turno il 3 e 4 settembre e turno finale il 21 settembre Nel girone A Spazio Ad Isernia Alto Casertano Atletico San Pietro in Valle ed Altiglia Samnion Nel B Boiano Agnonese Trivento e Rocca Ravindola Nel C Castellissandro Sesto Campano Bois Vairano ed Esernia Faterna e nel D Birtus Gioiese Venafro Donquins Agnone e Spinete a completare il primo tabellone per il secondo tabellone invece nella Pulle Ururi Campo di Pietra Termoli 2016 Ripa Limosani nella F Pietramonte Corvino Turris Polisportiva Petacciato ed A.M. Juvenes Nella G Campomarino Real Guglionesi Quiterlina e Baranello e infine nell'H Campobasso 1919 Gambatesa Montenero e Polisportiva Fortone Ed ora la palla a canestro femminile di Serie A perché la molisana Magnoli a Campobasso ha chiuso il proprio staff tecnico trovando il nuovo preparatore che è Walter Brandoni vecchia conoscenza del Molise che ha collaborato con diverse realtà e peraltro anche di diverse discipline sarà per me un onore e un'occasione di crescita unica poter collaborare con il gruppo dei fiori d'acciaio le prime parole di Walter Brandoni appena arrivato a Campobasso e per il calcio a 5 è un percorso tutto in bianco nero e tutto a Venafro che dal calcio a 11 è poi arrivato al Futsal ed è quello del ventenne Francesco Felace che ora è pronto a proiettarsi con forza nello scenario dello sporting Venafro per me ha detto il giocatore che sarà tra i laterali dell'organico a disposizione di mister Gennaro Rizzo è una nuova prospettiva rispetto al passato ma gli stimoli sono tanti e nell'ultimo mese della scorsa stagione già mi ero allenato con la squadra approcciandomi al meglio alla disciplina del Futsal da Venafrano tra l'altro l'ultimo acquisto dello sporting sarà ancora più determinato a dare il massimo ci tengo particolarmente è un piacere oltre che un onore e uno stimolo poter giocare per la squadra della mia città bene è tutto per questa edizione vi ricordo gli aggiornamenti in diretta questa sera alle 19.30 con Pierluigi Boragine e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia buon proseguimento con i programmi di Teleregione arrivederci a a a a a Grazie a tutti.